Prendi vita e colori la fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie a Piano Vetrale, il borgo, frazione di Orria-Cilento, definito il Paese dei Murales. L'iniziativa, che rientra nel progetto intitolato Tra Cunti e Murales Brail, è stata voluta fortemente dal professore Giuseppe Sica ed è stata realizzata dal maestro Lavinio Sheral. Mentre il design cirurgiero ha curato tutta la parte riguardante i giochi di luce, che hanno reso magica la serata. La manifestazione ha visto anche la performance musicale di Mariano Sica, allievo presso il Liceo Musicale Parmenide di Vallo della Lucania. Molte le autorità intervenute all'iniziativa, il sindaco di Orria-Cilento Agostino Astore, il presidente dell'Unione Ciche e i povedenti di Salerno, Francesco Cafaro, il presidente del Comitato Unicef regionale, Emilia Narciso.